Noi chiamiamo i genitori e questa è una scelta che abbiamo fatto proprio perché crediamo che il contatto diretto possa in qualche modo instaurare un momento di colloquio in modo tale da poter convincere i genitori a vaccinare i propri ragazzi. È fondamentale vaccinare anche i più giovani, lo dice senza mezzi termini il dottor Risdon in rappresentanza dei pediatri di libera scelta bellunesi perché le resistenze sono causate da timori ingiustificati derivanti più dall'infodemia che da tesi scientificamente provate. Più bambini sono più vaccinati e meno il virus girerà. Se noi non facciamo questo lavoro e che permettiamo al virus di continuare a circolare tra gli adolescenti le mutazioni che inevitabilmente ci saranno nel futuro saranno comunque sempre più aggressive e cominceranno a creare problemi anche ai clinici, anche ai bambini. A San Martino attualmente sono 8 i pazienti ricoverati, uno di questi in terapia intensiva e fra i 7 in area subintensiva c'è un paziente 12enne mentre delle ultime ore ricovero in pneumologia di un giovane di 30 anni non vaccinato. Il 19 di agosto dello scorso anno non avevamo nessuno ricoverato, oggi abbiamo 8 persone. L'altra differenza è il numero di positivi, l'anno scorso ne avevamo 4, oggi ne abbiamo 24. È evidente che il virus è ancora presente e quindi dobbiamo adottare tutte quelle misure, non soltanto mascherina, distanziamento e quant'altro ma anche tutte le nuove difese che noi abbiamo. I numeri aiutano a capire che è il momento della responsabilità, ci sono ampi spazi di prenotazione dei vaccini anche ad accesso libero. Settembre-ottobre saranno mesi in cui riorganizzeremo i punti vaccinali ordinari perché le prenotazioni sono più contenute cercando di costruire squadre che possano appunto andare sul territorio d'intesa con le amministrazioni comunali e con i medici di famiglia del territorio per raggiungere anche perifericamente le persone che non hanno potuto accedere o ritenuto di accedere finora alla vaccinazione. Frattanto sono pronte 19.000 lettere che fissano l'appuntamento per la somministrazione del farmaco indirizzata alle over 50 e a una quota di soggetti guariti dal Covid che non hanno eseguito la vaccinazione di rinforzo.